Amici, oggi a grandissima richiesta, cioè tipo me lo chiedete da una vita in milioni, portiamo le Bedwars sul canale, una modalità che tutti conoscete, il server è sempre quello, sarà un nabbo? Molto probabilmente sì, ma almeno questo primo video servirà a voi per scrivermi come migliorare, come non migliorare e cose varie. Come sempre, signori, vi invito ad iscrivervi e lasciare un bel mi piace, un commentino e soprattutto attivate la campanellina perché così facendo sarete sempre più aggiornati sui nuovi video. Ma adesso, signori, senza perdere altro tempo, iniziamo e speriamo vada bene, ma la vedo dura. Quindi, signori, siamo nella lobby, ovviamente, delle Bedwars e direi di andare a farle in solo. Ora, volevo chiedervi una cosa, come si fa ad impostare la skin appunto nel server? Ovviamente il server è quello lì Hypixel, che me l'avete consigliato in 750.000 e ovviamente credo sia tipo tra i migliori, però non so come impostarmi la skin, quindi se qualcuno lo sapesse o se qualcuno giocasse in questo server me lo scriva nei commenti. Dobbiamo attendere altri tre giocatori, tre polli da spennare, qua vedo uno skin, magari la mia teoria è se sei uno skin sei scarso e io sono uno skin, ma vabbè. Quindi, aspettiamo, in caso vi faccio un piccolo tagliettino e poi andiamo nelle Bedwars. Ho visto un paio di video per informarmi, però non credo che servano per farmi vincere questa partita. O magari la vinceremo, occhiolino, occhiolino. Oh, finalmente siamo spawnati, ma tipo che ho dovuto cambiare una cosa come 56 lobby, perché la gente quittava e quindi non eravamo numero abbastanza qui. Cosa succede se faccio click? Ok. Allora, il mio piano è prendere un botto sia di materiali, quindi di lana per il momento, che anche di oak e andare a coprire il mio lettino. Quindi per ora lo teniamo coperto così e soprattutto, sapete cosa mi dà fastidio? Ma un fastidio totale, quelli che pushano con la... come si chiama? Con la dinamite, con la... sì, con la cosa. Con la dinamite, con questa qua, questo schifo che dovrebbero toglierla con la TNT. Vabbè, la chiamerò per sempre dinamite. Ora non so qual è il piano migliore, del tipo conviene andare addosso a qualcuno, oppure farci gli affaracci nostri, tipo... Ah, guardate qua, guardate qua. C'è l'isola di diamanti, ok signori. Allora, dato che siamo spawnati letteralmente in parte all'isola di diamantozzi, io prenderei la mia bella lana rosa, che è sottovalutatissimo il colore rosa, ma è tipo una cosa stupenda, almeno si abbina con molte cose, e andrei verso l'isola di diamanti. Ora sto andando senza guardarmi dietro, quindi non so esatto cosa potrebbe succedere. Del tipo diamo un'occhiata sempre alla nostra isola, teniamola sott'occhio e teniamo sott'occhio anche questo, perché tra 20 secondi spawnano i diamantozzi. E so che i diamantozzi possono metterti sharpness sulla spada. Dai, diamanti, 3 secondi, dai, 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 veloce che devo correre, veloce che devo correre. Un secondo, ok. Vabbè, tutto sto casino per un diamante. Ok, dai, corri, corri, corri. È caduto? No. Pensavo fosse caduto nel vuoto. Vi è c'è? Ah, sì, è caduto nel vuoto. Eh, infatti mi sembrava, ho detto, ma infatti mi sembrava che fosse caduto. Ok, perfetto, è un idiota totale. È un idiota totale. Sta tornando alla carica. Ci serve la spada, ci serve la spada. Ok. E sì, avrei... Eh, vabbè, no, dilo che sono imbecille. Continua a cadere, è un idiota totale. Ok, perfetto. Allora, mettiamo sharpness sulla spada. Poi fatemi sapere se ho fatto bene. Voi mi direte i consigli... Mi darete, più che direte, i consigli migliori. Mi do una sistematina che è quella che ci farà vincere. E riprendo il mio mouse e tastiera. Allora, quello lì sembra un idiota totale. Io lo pusherei. Oh, no, 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 no. Cosa stai facendo nella mia casina? Cosa stai facendo nella mia casina? No, no. Stai attento, stai attento, master, stai attento, master, sto... Ecco, mi ho distrutto il letto. Ecco, mi sono fatto uccidere come un idiota. Dai, non ci credo. Signori, è stata una prima partita un po' amara. Ne voglio fare subito un'altra, però dai, sto iniziando a capire come funziona. Volendo potremmo fare la tattica del mega push di TNT, però... No, non sono tipo e sinceramente non mi va neanche più di tanto. Quindi, boh, non so, scrivetemi la tecnica migliore. Avrei potuto coprirlo anche con della lana, sinceramente. Però ho detto, ma sì, cosa vuoi che succeda? Sono morto subito. Però, vabbè, non lo so, per ora uso le tattiche che mi vengono in mente. Però voi saprete consigliarmi le migliori. Sempre il solito ferro. Qua costa 4, quindi stup che ce lo prendiamo. Io direi di coprirlo sia con il legno che con la lana. Perché, boh, secondo me conviene di più. Facciamo una cosa del genere che ci può stare. Ovviamente la mettiamo anche sopra. Quello lì sta andando all'isola di diamanti. Dannazione, facciamo click perché, boh, magari porta fortuna. Ma anche se prima ci ha portato decisamente sfortuna. Ci prendiamo altra lana, ma non troppa. E aspettiamo 7 di gold per prenderci la spada. A meno che, a meno che, se andiamo su milì, 4 smeraldi. Oh, quante forte sto sti... Ok, ho un piano. Guys, I have a plan. Ci prendiamo lo stick. Dammi, dammi, dammi lo stick, dammi lo stick. Magari è stra più forte. Ok, stanno mega fightando. Per il momento mi interessa solo utilizzare lo stick con knockback. Perché secondo me con knockback è utilizzato... Ci abbiamo l'isola dei diamanti in parte. Di nuovo. Ok, quindi Master non fa errori. Master non fa errori sto giro. Io me ne vado a testa bassa e con lo shift premuto verso l'isola dei diamanti. Ce li prendiamo e ci mettiamo sharpness sullo stick. È una buona idea? Boh, perché prima non ci ho fatto caso, ma forse, forse avevano knockback. Cioè, avevano lo stick con knockback. Guardate quello! Stupido! Lo pusciamo? Sì, dai, lo pusciamo, signori. Potrebbe essere l'errore più grande della mia vita. No, è stato l'errore più grande della mia vita. È stato l'errore più grande della mia vita. Dai, ma perché? Devo fare una cosa del genere. Che ho appena perso tutto. Vai via, vai via. No, non va via niente. Ci moriamo, ci moriamo. Perché devo morirci sempre io? No, stai buono. Eh, mi ha pure distrutto il letto schifoso. Vai via dalla mia isola, vai via dalla mia isola. Via. Ma quanta vita ha? Oddio! Oddio! Oddio, oddio. Oddio, vi prego. Voglio sapere le tecniche per vincere. Mi sto, mi sto cringiando tantissimo. Che non è il termine giusto, ma avete capito. Dai! Perché non... Perché? Bella st'isola con i conigli. Pasqua è passata da un mese e mezzo, ma comunque... Boh, non lo so. Spammo anche. Il coso per colpire. Guardate, guardate come spammo. Boh, non lo so. Non lo so. Non vedo l'ora di vedere i vostri commenti, perché... Mi sento una pippa e quando perdo mi dà un fastidio, quando perdo. Mi dà un fastidio. Ok, quest'isola mi sembra molto misteri... Vabbè, ma guardate dov'è il coso dei diamanti, cioè degli smeraldi. Allora, quale potrebbe essere il mio piano? Beh, intanto comprare della lana, il più possibile, esatto, perché altrimenti finisce in tragedia. E soprattutto del legno. Allora, sto giro voglio andare a prendermi gli smeraldi. Boh, totalmente a caso, così. Ora, sono abbastanza certo che non mi basteranno mai le lane, perché è tipo lontanissimo per sempre, quindi mi conviene... Oh, stai buono, cosa stai facendo nella mia base? Oh, oh, zì, no, 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 parliamone, parliamone. Ehi, ehi, brother. Oh, bro, no, no, questo è un pazzo... Eh, signori, è un pazzo questo. Cosa sta... cosa vuoi fare? Oh, vai via da casa mia. Bravo, vai via, brava, vai via, vai via. No, più via, più via. Ok, sono scivolato, sono scivolato, sono un idiota, sono un idiota, questo qua ci ammazza. Eh, ci stanno pushando da due lati, no, è sull'isola dei diamanti. Dai, vi è... ah, ma ci avrà la TNT. Però voglio vedere cosa fa, vai, voglio vedere proprio cosa fai. Mhm, ok, ok. Fatemi prendere altri materiali, va. Eh, vedi che... vedi che pushano tutti con la TNT. Vedi sti schifosi. Dai, che schifo di tattica stupida. No, che tattica infame. No, sei un infame. Sei uno schifoso. Fai schifo. Fai schifo, muori. Muoricci. Muori, quanta vita c'ha, quanta vita c'ha. Eh, vabbè. Incredibile. Ah, signori, dato che mi sono stufato di morire come un animale, voglio andare nelle coppie. Sì, andiamo nelle duo e vediamo di trovarci il compagno più forte della storia e vincere. No, perché da solo, come prima partita, è impossibile. Cioè, proprio non ce la farò mai a vincere. A meno che non trovo tutta gente più scarsa di me, ma... Credo di essere il più scarso. Quindi, andiamo nelle coppie. E ci troviamo pure un compagno. Ora, siamo in 15 su 16. Se fossi per sbaglio io quello senza coppia, quindi sono da solo, proprio mi metto a piangere. In una maniera impensabile. Cioè, proprio scoppio in lacrime in diretta. Ok, è arrivato il compagno. Perfetto. Salve, buon uomo. Quanto è un gentleman. Allora, ci abbiamo il compagno? Sì. Salve, buonasera. Allora, qual è il tuo piano? Mi stai rubando tutti i materiali? Ok, sei un po' un infame, però va bene, dai. Lo accetto. Ci prendiamo sempre la lana? Non lo so. Cioè, vorrei vedere cosa fa lui più che altro. Magari è uno che puscia. Cosa mette nella cesta? Ok. Quindi c'è la tattica a mettere le cose nella cesta. Capisco. Vabbè, quelli sono dei maiali. Che stupido. Questo qua è un pazzo, eh. Ve lo dico tranquillamente. Il mio compagno è un pazzo. Ah, ho capito. Quando pusci, metti nella cesta la roba così, in caso tu morissi. Almeno ce l'hai nella cesta, vedi? Vedi che il mio compagno è un saggio? No, no. Compagno. Occio, occio, occio. No, occhio. No, no. No, 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 no. Vai via, vai via, vai via. Ti prego, vai via, ti prego, vai via, ti prego. Vai via, vai via, vai via. Ma vedi? Oh, io non capisco come fanno loro sempre a colpirmi. Io non li colpisco. Cioè, com'è possibile? Cioè, è proprio impensabile come cosa. Guarda, ma gli faccio danno o no? No, no, mi sto inc... Cioè, proprio sto per tiltare. Sto impazzendo, io ve lo dico, mi metto a urlare come un animale. No, ora la rifacciamo in coppia. Cioè, cosa vuol dire che loro mi colpiscono e io no? Che minchia vuol dire? Cioè, non vuol dire niente, non vuol dire assolutamente niente. Perché sono tornato alla lobby? Vabbè. No, io le voglio rifare in coppia e voglio capire cosa significa che loro mi colpiscono e non gli faccio niente. Ma che cazzo vuol dire? E io mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video, tra l'altro che con quali capelli improponibili. Spero che queste prime bedwars... Bedwars... Vi siano piaciute. Sono abbastanza scarso, ma voi nei commenti mi scriverete appunto dei commenti che mi aiuteranno a migliorare. Spero appunto che vi sia piaciuto e vi do appuntamento domani, allo solito ora, però, alle 2.45, con un nuovo video. Ciao! Mamma mia, ste bedwars mi fanno tiltare. Eh... Ciao! Ciao! Grazie a tutti.